London Bridge is falling down, falling down, falling down, London Bridge is falling down, my fair lady! Quello conosciuto come The Elevator Game, in italiano gioco dell'ascensore, è un rituale che permetterebbe di raggiungere un cosiddetto altro mondo tramite un comune ascensore, a patto che questo raggiunga dieci piani o più. Il fenomeno ha origine su un sito coreano. Leggendo il post dell'autore originale si può constatare che i metodi per raggiungere l'altro mondo sono in realtà quattro, sebbene ad essere diventato virale sia principalmente quello che vede come mezzo l'ascensore. Non è chiara la natura dell'altro mondo. Secondo alcuni si tratta effettivamente dell'aldilà, altri affermano che sia una dimensione parallela alla nostra. Come giocare a The Elevator Game Partecipanti È previsto un solo giocatore principale, requisiti, un edificio con almeno dieci piani ed un ascensore. Queste tre condizioni sono fondamentali per far sì che sia possibile iniziare il gioco. È importante assicurarsi prima di cominciare che nessuno salga sull'ascensore durante l'esecuzione del rituale, altrimenti sarà necessario ricominciare da capo. Accedere all'altro mondo Prima di tutto entra nell'edificio scelto ed entra da solo nell'ascensore al primo piano, considerando il piano terra come primo piano. Non continuare se qualcuno sale con te. Premi il pulsante per il quarto piano. Quando l'ascensore raggiunge il quarto piano, non scendere. Resta invece nella cabina e premi il bottone per il secondo piano. Arrivato al secondo piano, resta nell'ascensore e schiaccia il pulsante per il sesto piano. Al sesto piano, torna al secondo senza uscire. Tornato al secondo, sali fino al decimo senza uscire. Quando arrivi al decimo piano, premi il bottone per il quinto piano senza uscire. Al quinto piano, una giovane donna potrebbe entrare nell'ascensore. Non guardarla. Non parlarne. Lei non è ciò che sembra. Premi il pulsante per il primo piano. Se l'ascensore sale diretto al decimo piano, invece di scendere al primo, puoi continuare. Se al contrario scende fino al primo, esce il più presto appena si aprono le porte. Non guardarti indietro. Non parlare. Se raggiungi il decimo piano, hai due opzioni. Puoi scegliere se scendere dall'ascensore o restare dentro. Se decidi di scendere e la donna è entrata nell'ascensore al quinto piano, questa ti chiederà dove stai andando. Non risponderle. E non guardarla. Avrei la certezza di essere arrivato con successo nell'altro mondo da un solo unico fattore. Sei l'unica persona presente. Riguardo la donna del quinto piano. Non parlarle. Non guardarla. Se infrangi una di queste due regole, potrebbe decidere di tenerti per sé. Nessuno è mai tornato per spiegare che succede se lo fai. Tornare dall'altro mondo. Se arrivato al decimo piano e sei rimasto nell'ascensore, schiaccia il pulsante per il primo piano. Se non funziona, continua a premerlo fin quando non lo farà. Quando l'ascensore raggiunge il primo piano, esce al più presto appena si aprono le porte. Non guardarti indietro. E non parlare. Se hai deciso di scendere al decimo piano, per tornare devi utilizzare necessariamente il medesimo ascensore usato per accedere all'altro mondo. Ripeti gli step dal secondo all'ottavo del paragrafo Accedere all'altro mondo. Promemoria sull'ordine dei piani da raggiungere. 4, 2, 6, 2, 10, 5. Alriverai al quinto piano. Raggiunto questo piano, premi il pulsante per il primo piano. Come in precedenza, l'ascensore comincerà a salire per il decimo piano. Premi qualsiasi bottone per bloccare l'ascesa. È importante che tu premi un qualsiasi bottone prima che l'ascensore raggiunga il decimo piano. Quando avrai raggiunto il primo piano, ispeziona l'ambiente molto attentamente. Se qualcosa sembra strano, anche il più piccolo dettaglio, non uscire dall'ascensore. Se noti qualcosa di anomalo, ripeti i passaggi dal secondo all'ottavo step, come prima, fino a quando tutto ciò che ti circonda sembra normale. Potrai scendere in sicurezza dall'ascensore quando sarai sicuro di essere tornato nel tuo mondo. Note supplementari. Se dovessi arrivare nell'altro mondo, il piano a cui scenderai apparirà pressoché identico a quello del tuo vero mondo, ad eccezione di due cose. Tutte le luci saranno spente, e l'unica cosa che sarai in grado di scorgere dalle finestre è una croce rossa in lontananza. Alcuni hanno segnalato malfunzionamenti con i dispositivi elettronici, come cellulari, fotocamere, lettori MP3, eccetera, nell'altro mondo. Altri affermano che essi funzionino correttamente. Tornare al tuo mondo di appartenenza potrebbe risultare più difficile di quello che sembra. Potresti disorientarti e dimenticare con quale ascensore sei arrivato. Potrebbe sembrarti che l'ascensore sia lontani di più di più da dove sei man mano che prosegui. E così via. Sii vigile e resti in guardia. Se in un qualche momento durante il rituale ti senti debole, svieni o perdi coscienza, ti risveglierai probabilmente a casa tua. In ogni caso, assicurati di controllare attentamente l'ambiente appena ti svegli. La casa in cui si è tornato potrebbe non essere la stessa che hai lasciato quando hai deciso di provare questo rituale. Grazie. 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 Grazie.